Ecco questo è il logo, io vorrei dirlo in italiano ma si deve dire in inglese, zero weights, cioè zero rifiuti. Io appoggio questa idea perché mi sembra bellissima il fatto di cercare di non buttare bottiglie per terra, cercare di fare un discorso ecosostenibile importante. Lo dico soprattutto per quelli che correranno come me la mezza maratona e che dovranno buttare le bottiglie o anche tutte le altre cose che butterebbero per terra dentro gli appositi contenitori. Quindi zero waste.